È cominciata con un incoraggiante settimo posto la nuova avventura sanremese dei discografici eretini di Woodworm. Il loro gruppo, Icola Zio, nella classifica parziale decretata dalla sala stampa nella prima serata del festival, ha raggiunto curiosamente lo stesso posto in classifica che lo scorso anno era toccato alla rappresentante di lista nella classifica finale. Classifica che per ora è dominata da Marco Mengoni ma che è ancora tutta da rivoluzionare in attesa degli altri 14 big che si esibiranno nella seconda serata del festival. Il brano dei Colla Zio, Non mi va, è un concentrato di energia e un monito da affrontare la vita senza annullare i problemi. In un festival che è iniziato con il monologo di una retina illustre, Roberto Benigni, che è invitato a riflettere sul valore della costituzione e della libertà, tra gara ufficiale e quella del Fanta Sanremo si sono fatti notare anche i cugini di campagna in tuta scintillante di paillettes. Per loro un ottavo posto con il brano scritto dalla rappresentante di lista, che come l'etichetta discografica retina ci è anticipato, sarà ospite del festival nella serata di venerdì.